in questo video vediamo verbi con il deja vu cioè verbi che ricordano un infinito più antico di origine latina sono verbi che normalmente si presentano con un prefisso terminano indurre trarre e porre per esempio verbi che terminano indurre condurre produrre ridurre verbi che terminano entrarre sottrarre protrarre ritrarre verbi che terminano imporre comporre supporre proporre quindi nei loro composti sono molto frequenti e si comportano sempre nello stesso modo da dire ancora che durre da solo non esiste trarre esiste ma un registro molto alto non consiglierei di utilizzare trarre in un testo normale quotidiano e il porre anche qui a un registro elevato ed è usato molto spesso nei testi tecnici nelle istruzioni allora vediamo il primo produrre che deriva da ducere ducere era l'infinito latino se noi vediamo come funziona io produco tu produci lui produce noi produciamo voi producete loro producono se noi partiamo dall'infinito latino ducere è completamente regolare le terminazioni sono quelle dei verbi regolari semplicemente bisogna ricordarsi di partire da producere che non esiste in italiano e poi coniugare il verbo normalmente provaci adesso tu metti in pausa il video prendi un foglio di carta e prova a coniugare il verbo ridurre ed ecco qui la soluzione io riduco tu riduci lui lei riduce noi riduciamo voi riducete e loro riducono il secondo verbo è sottrarre e in latino era traere come funziona questo verbo io sottraggo tu sottrai lui sottrae noi sottraiamo voi sottraete loro sottraggono le terminazioni anche qui sono regolari come quelle di un normale verbo in ere vediamo in modo più specifico cosa succede con questo verbo innanzitutto l'infinito latino traere perde la h e poi la prima cosa che notiamo è che la struttura di questo verbo è una struttura abbastanza frequente nei verbi irregolari inere e inire al presente indicativo cioè la prima persona e l'ultima persona sono uguali e sono irregolari mentre il resto è regolare sono uguali nel senso che io so che nei verbi nere inire il loro si può ottenere dalla prima persona quindi io sottraggo loro sottraggono e aggiungo uno alla prima persona e ottengo il loro questo lo vediamo anche per esempio nei verbi come venire io vengo loro vengono ma il resto delle persone è diverso se poi partiamo da l'infinito che non esiste in realtà sottraere dall'infinito da cui deriva questo verbo vediamo che le altre persone cioè il tu lui il noi e il voi sono totalmente regolari anche qui prendi un foglio e prova a coniugare il verbo estrarre ed ecco la soluzione io estraggo tu estrai lui estrae noi estraiamo voi estraete e loro estraggono vediamo il seguente verbo il verbo proporre l'infinito latino da cui ha origine questo verbo è ponere e anche qui se noi vediamo il verbo io propongo tu proponi lui propone noi proponiamo voi proponete loro propongono vediamo che le terminazioni sono regolari come nella coniugazione inere dell'indicativo presente vediamo un po meglio questo verbo proporre riprende la stessa struttura dei verbi in traere come estrarre che abbiamo visto prima per cui la prima persona e l'ultima persona sono irregolari e le altre persone se noi partiamo da proponere sono regolari bene prova a coniugare il verbo comporre ed eccolo qui io compongo tu componi lui lei compone noi componiamo voi componete e loro compongono e visto che facile